In questa giornata parliamo della rigenerazione urbana sostenibile. E' nostro interesse, nella nostra categoria, parlare del verde e della sostenibilità di un ambiente anche per la parte urbana. Le nostre tematiche più impattanti sono quelle collegate al consumo del suolo, quindi ovviamente cerchiamo di capire se il consumo del suolo è finalizzato e comunque fa parte di un beneficio che ritorna a favore della società oppure se invece deve essere riqualificato in altri metodi che proprio l'agricoltura, ma inteso come verde, potenzialità del verde, quindi di fissare carbonio, di aiutare la riduzione del particolato, può interagire in una metropoli che a questo punto invece è molto inquinante. Chiaramente questo fattore entra nei concetti innovativi del cambiamento climatico, innovativi, purtroppo argomento risaputo, che crea forti danni e dobbiamo tenere conto quindi che le nostre capacità in questo caso di applicare nuove tecniche collegate alle nuove vegetazioni ornamentali o del territorio per dare nuove funzioni al giardino urbano può essere uno stimolo e una sfida molto importante. Ci sono studi che questo l'hanno già affrontato, l'hanno anche realizzato, quindi abbiamo proprio di che fare invece di continuare magari a parlarne. È importante quindi avere questa attenzione al rinnovamento di quelle che sono le nuove prestazioni dei tecniche collegate al verde ornamentale e che devono quindi sforzarsi per dare risposte sociali in un nuovo sistema integrato che non è più collegato soltanto a un mondo vicino alla città che potrebbe essere l'area rurale, ma la ruralità entra anche nelle città, ma per i suoi aspetti positivi. Ovviamente il prossimo futuro, i piani di sviluppo comunale, dovranno essere integrati, dovranno essere condivisi, dovranno valutare il bilancio di quelli che sono i vantaggi che può dare una corretta progettazione di un verde sostenibile.